Non si stacca mai dal suo sax, Francesco Cafiso. Il primo glielo hanno regalato all'età di 7 anni, oggi che di anni ne ha solo 24. Con il suo sax ha già suonato con i più grandi jazzisti del mondo. In questi giorni a New York per fare un nuovo disco, la Sicilia, la sua terra non l'ha mai lasciata, ma è l'energia di Manhattan che gli dà nuove ispirazioni. È tornato in America dove aveva suonato all'insediamento di Obama e dove l'American Society lo ha premiato con la legione al merito. Un'onore efficienza per gli italiani che si sono distinti con il loro lavoro negli USA. Il legame con la mia terra rimane fondamentale. Questo legame cerco di farlo emergere sempre attraverso la mia musica, scrivendo brani ispirandomi alla Sicilia. Si può quindi scegliere la musica come lavoro? Assolutamente sì. Se insomma c'è del talento, ovviamente questo alla fine verrà fuori. Quindi si può pensare di vivere di musica e credo sia fondamentale per seguire i propri obiettivi e i propri sogni, soprattutto per i giovani.